Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Call of Duty Infinite Warfare per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi eccoci tornati su questo titolo, allora, nell'ultimo episodio ne sono successe veramente di tutti i colori Come potete vedere di fronte a me c'è un'astronave distrutta, non vi dico di che astronave si tratta, non vi racconto che cosa è successo nell'ultimo episodio Così se ve lo siete persi potete andarlo a vedere, quello che posso dirvi è che il Capitano Reyes ha in mente un piano per distruggere il set death Allora, vediamo dove andremo a finire questa volta Signore è stato aggiunto un indicatore di missione sulla terra, quindi torneremo sulla terra Operazione bandiera nera ragazzi, issiamo la bandiera nera e andiamo all'attacco Allora, il bersaglio è l'Olympus Mons, che è praticamente l'astronave principale della flotta del set death Direi di partire subito, autorizziamo questa missione Sentiamo cosa ci dice Abbiamo subito gravi perdite, il Capitano Holder e Ferran E il Sergente Omar, ucciso su Vesta 3, signore Mi spiace, era un bravo uomo, ottimo Marine C'ero io al comando Non è colpa sua Non possiamo permetterci giudizi a posteriori Ho saputo che lo Stratcom approva il suo piano per Ginevra Al suo segnale il prigioniero sarà trasferito al quartier generale Una squadra medica rimuoverà dal soggetto il trasponder che sarà immediatamente incenerito Piloterò un Raven alla base UNSA Sarà il nostro centro operativo Se tutto va bene, attireremo la flotta nemica E' l'unico modo ragazzi per sconfiggere i set death Andiamo, si torna a casa E' da un po' che siamo in giro Salto in 3, 2, 1 Valutazione Direi buona, precisione 98% Ci sta prendendo la mano, Gator Dovrebbe vedermi in moto Deve farmi fare un giro Deve farmi fare un giro Pronti all'uscita Assetto di sorvolo In 3, 2, 1 Rapporto Ok, ecco la terra Lavoro eccellente, Gator Miglior equipaggio del sistema Non ci piove Mazzà, se la tira poco Ragazzi, ecco voi la terra Allora Andiamo all'armeria A prendere delle nuove armi Ok, vediamo che armi ci daranno questa volta Ok, allora Fucile energetico semiautomatico Tieni premuto triangolo e attiva la modalità fucile d'assalto Che garantisce fuoco automatico e consumo energetico ridotto Il river Fucile a canna liscia Balistico semiautomatico Ok Però più che lo scudo e l'atad Io mi prenderei il dispositivo di violazione Che può tornarmi più utile I seeker bot vanno benissimo La granata antigravità la sostituirei con Una bella granata elettrica Così possiamo friggere sia i robot Sia i soldati nemici Grazie Griff Sempre affidabile Cambiamo la mimetica Mi raccomando laggiù Non deve perdere di vista quel pen Tranquillo, tranquillo Allora, vediamo Ah ok, non me la fa modificare qua Dimmi Tranquilla, ci penseremo noi Ok Andiamo Ok, c'è già Ethan qua Guidiamo noi? No Ci agganciamo soltanto Stanno caricando il prigioniero C'è il maggiore A queste linee Disegnazione è così Passalo sulle nostre interfacce Ok Vediamo che succede Agganciamoci qua Vedi anche tu soldi Perfettamente E si parte ragazzi Maggiore Questo stronzo è una mina vagante Va sedato immediatamente Ecco è a 5 minuti dall'edificio È pericoloso La città è stata evacuata Per agevolare il convoglio Ci veniremo a voi All'ammirario del padiglione medico Tempo all'arrivo 3 minuti Ce la faccio in 2 Roger chiudo Vai sbrigati Ok ragazzi Si parte Un minuto all'atmosfera Ok copriamo il convoglio Ah ci stanno già attaccando Avviciniamoci Si ma che caspita di Protezione gli avete messo Sto convoglio Guarda gli altri Come sono curazzati Sembra la macchina di Batman Ragazzi Sembra una Batmobile Dai Diamo lì copertura Dall'alto va Eh buonanotte Pure il ponte Ha fatto esplodere Topcat qui 1-1 Conveglio distrutto Ripeto Eco distrutto Rotta con promessa Eh però potevate anche aspettarvelo Non possiamo perdere quel transponder Recevuto Scar 1 all'inseguimento Facci scendere Salt Ok Ethan Vai avanti tu Potevano anche aspettarselo però Salt Posizione d'appoggio Attendi rapporto Dai andiamo Ok Seguiamo il nostro robot Ecco Qui 1-1 Mi ricevete Attenzione Attenzione Ok Vai fai strada Ah è qui dentro Sono più o meno ancora vivi Maggiore Medico in arrivo Dov'è il prigione Scappato L'hanno preso Eh immaginavo Vai capitano Qui ci penso Ok Voglio silenzio radio In questo settore Per isolare il bersaglio Salt Trova un terminale Spegne il transponder È finita Ricevuto Arrivo con i marine Allora Attenzione Attenzione Comunque il prigioniero L'ho visto Dobbiamo stare Attenzione Uh cosa mi hanno buttato Eccolo là Aspettate C'è qualche robot No però Questo mi può dare una mano No non c'è nessuno Ok ha battuto Lì ce n'è un altro Lì sotto Attenzione Eh il drone Il drone mi può tornare Molto utile Preso Sì ma mi sa che Ancora vivo Mi sa che è ancora vivo Ok ha battuto Decidente Me l'hanno fatto fuori Ok Ha battuto No il drone è ancora vivo Per fortuna Ok Morto No facciamo una roba Ok Questo qua è morto Mi tengo Questo fucile qua Se devo sparare E L'altro Se devo cecchinare Ok Attenzione I cavi Ah sono belli Corazzati va Non fermiamoci Arriviamo al padiglione Che cazzo è il padiglione Che casino ragazzi Ha una nostra vecchia astronave Eccoli Ok ha battuto Mi sa che ci sono anche dei cecchi Eccolo là Preso Ancora vivo Adesso è morto Ok ho ancora un drone Che però Mi hanno fatto fuori Attenzione Ok Ha battuto Eccolo là Ha battuto Mi pare di sì Non li vedo Attenzione Eh non lo vedo però Eccolo là Eccolo là L'ho visto Morto Morto Ok possiamo procedere Ah mi serve Mi sarebbe servito Il visore notturno Vabbè buttaci questo va Eccolo lì Eccolo lì Guardalo lì Agganciato Usciamo di qua Aspettate però Ok ho preso lo scudo Dov'è Dov'è Casino perché non li vedo È un casino perché non li vedo Ce n'è due Ok ho evitato la granata Torno qua Lo l'hai morto Si Ok ha battuto È durissima ragazzi È veramente dura Perché sono praticamente ovunque Che caspita è quell'affare? No Non ci voleva Non ci voleva Ho capito che cos'è Viene dentro Buttagli un Seeker Granata Mamma mia È esploso in mille pezzi Eh Stanno salendo là Buttagli un Seeker Ce n'è uno là in cima Ok Ha battuto Ok Almeno Li ho fatto uscire Allo scoperto Ok L'ho ucciso Camminando sulla parete Scendiamo di qua Eh lo coprono bene No 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 Dai che siamo quasi Alla resa dei conti Ma cosa vuoi fare Ok ha battuto Ok Ucciso Ricarichiamo tutto E qua Ci sono nemici È morto Sì Abbattuto Bello questa ambientazione Però tu sei resistente C'è poco tempo C'è poco tempo Arrivano gli scala Attenzione Accidenti Eh non ho più Seeker Ok Ok Abbattuto Siamo alla resa dei conti Eh Accidenti Non mi sarei mai aspettato Che aprisse la porta Di colpo Quest'arma Quest'arma qua E' più efficace Questa invece Come funziona Fucile a canna liscia No Ottimo Oh scusa Ok C'è qualcosa qua Uh delle munizioni Eh vabbè Adesco il bazooka No 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 Accidenti Per fortuna Nel male Comunque mi sono salvato Perché ho distrutto Ho dovuto sprecare una granata Però ho distrutto quel seeker Ok Triturato Ma non rompermi le scatole L'abbiamo preso Oppure no Forse si Eccolo qua Attenzione Oi 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 Accidenti Aspita non mi aspettavo Fosse così forte Sei solo Un terrestre Che muore Per una causa persa Dobbiamo ucciderlo Mi sa Il vostro scudo Brucia Adesso No Il vostro mondo È indifeso Aiuto Questo È vero coraggio Ah si è ucciso Da solo Ma dimmi te Non farlo Ah no Non si è ucciso Si è sacrificato Si Capitano Qui Retribution Flotta SDF In discesa Arrivano Ricevuto Retribution Saltate nell'atmosfera L'onda d'urto Metterà fuori Usa l'Olympus Così la porteremo Attenzione Eh stanno arrivando Rai è morto Ha distrutto Il transponder Intercettiamo l'Olympus La retribution In discesa A tutte le unità Armi dell'Olympus Valso Operative Ammiraglio Dovete rifugiarvi In un bunker Attaccano Eh si Ciao Ammiraglio Silurato In 448 A tutte le unità Il bersaglio L'Olympus Monso Va presa L'ammiraglio Coccia È mio E adesso La pagherà Molto cara L'amiraglio